Sconfitta di misura per l'Arezzo calcio femminile che malgrado la brillante prestazione espressa cade in casa per mano della formazione romagnola del Castelvecchio. Un risultato che tuttavia cambia poco ai fini della classifica, visto che l'Arezzo si conferma al nono posto. Il tecnico Amaranto Tesse opta per un 4-4-2 di partenza, Antonelli tra i pali, Aterrini, Tecce, Mencucci e Casula in difesa, Baracchi e Paganini, Verdi e Mattiacci in mezzo, Nocchi di Fiori in attacco. L'Arezzo parte subito deciso e pronto a farsi valere, attaccando serratamente e costringendo le avversarie nella propria metà campo. Fin dall'inizio le rettine si rendono infatti insidiose mantenendo il possesso palla per buona parte del tempo e dando del filo da torcia a un Castelvecchio che recentemente si è rinforzato con due giocatrici provenienti dalla Serie A, come Petralia e la rettina Ugolini. Purtroppo, in un contrasto al centro campo, il capitano Amaranto, Laura Teci, cade a terra e malgrado il tempestivo intervento dello staff medico si trova costretto a abbandonare il rettangolo verde lasciando il posto a Zeghini. Il vantaggio del Castelvecchio giunge sul finire del primo tempo con Guidi che, approfittando di una svista difensiva delle padrone di casa, calcia la palla alle spalle di un incolpevole Antonelli. Al quarto della ripresa, Paganini cerca la conclusione ma il poderoso tiro dell'attaccante finisce alla destra della porta. Decisivo al quarto d'ora anche l'intervento di Antonelli che blocca magistralmente una potente punizione calciata dalla solita Guidi. Sfortunati i tentativi nella ripresa, in particolare di Nocchi e di Fiore, che provano forse natamente a pareggiare i conti. Al triplice fischio dell'arbitro, l'Arezzo torna negli spogliatori con l'amaro in bocca, accompagnata dall'applauso sincero e scrosciante della tribuna per il buon gioco messo in campo e la tenacia dimostrata. Con Agnese Zeghini, dopo tutti i risultati punti consecutivi è arrivata la prima sconfitta, ma l'Arezzo che si è giocata comunque alla pari con il Castelvecchio. Sì, sì, sicuramente ce la siamo giocata alla pari, però purtroppo siamo state sfortunate e le occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a concretizzarle al meglio, però comunque abbiamo fatto una buonissima partita. Per te ieri è stata anche la doppietta in primavera, come ci senti con la doppietta e diciamo anche nella transizione tra Serie B e primavera? Sì, sicuramente ieri è stata una grande soddisfazione fare questi due gol e sicuramente mi hanno dato parecchia forza per continuare a lavorare bene e per continuare ad impegnarmi come sto facendo fino ad ora. Siamo qui con Manuela, dopo tutti i risultati punti consecutivi è arrivata la sconfitta per l'Arezzo che però si è giocata alla pari con il Castelvecchio. Sinceramente la partita di oggi ha visto come al solito un Arezzo che ha giocato nella metà campo avversaria, purtroppo loro hanno sfruttato l'unico errore in fase difensiva che abbiamo fatto e abbiamo preso gol, però non sono stati segnalati nessun tiro da parte del Castelvecchio quindi da una parte mi posso ritenere soddisfatta della prestazione, certo questo ci deve far aiutare a crescere e quando fanno gli errori gli altri dobbiamo essere capaci noi di buttarla dentro e oggi però purtroppo non è stato così. Parlando del finale, magari l'inserimento anche di una punta poteva essere qualcosa in più per la squadra? Sì, certo, se ce le avessi le punte sì, purtroppo non abbiamo neanche una punta di ruolo quindi noi stiamo cercando degli equilibri in questa squadra, come una squadra che l'anno scorso è arrivata a quinta in Serie C e molte non fanno il loro ruolo ma si stanno adattando e questo è il lavoro che dobbiamo fare, cerchere degli equilibri, poi se ci fosse una punta sul mercato benvenga, ci mancherebbe. Adesso domenica è un altro scontro diretto contro il Padua, quindi è un altro partitato da più di tre punti, mettiamola così. Per il momento valgono ancora tre i punti, sì, dobbiamo andare a fare punti lì, sono alla nostra portata e ce la metteremo tutta come al solito. Grazie. Grazie.